...nasconde la testa sotto passante su uno strutto per non vedere quali problemi una cosa più bella potenzialmente ha. Se la battiamo di vista la realtà... Ma tu sai che siamo tante le mamme che vogliono diventare mamme, mamme a 50 anni. Guardate, così poi commentiamo anche Patrizia e Anchena, guardate. ...un ufo di giù, un ufo dell'amore... ...i desiderio non è ancora su un po' si mette... ...canna frante battiato, frasi che calza perfettamente a star dello spettacolo ...come Valeria Marini e Cristina D'Avena... ...che vogliono dare un corpo, seppur tardivo, al desiderio di tutte le donne... ...diventare mamma. Sogno di diventare mamma? Certo. È uno dei tuoi desideri? Certo. Quindi è una cosa che hai in programma, diciamo. Certo. Valeria, a 50 anni, il prossimo maggio non ne ha mai fatto un mistero. Il sogno di quel figlio che da sempre vuole ne è passato accanto tante volte... ...ma è raggiunto, purtroppo. Cosa ci dici, appunto, delle donne che vogliono diventare mamme, anche dopo i 40? Benissimo, perfetto. Guarda, che essere mamma è la cosa più bella al mondo, quindi non c'è età... ...o se c'è, comunque... ...non c'è età, dai! Cristina, vedi? Già, in città.